ben tornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così salite sempre aggiornati su tutte le prossime novità allora da dove iniziamo iniziamo da qui iniziamo dal fatto che a partire dal 26 di gennaio l'inps o meglio le poste hanno iniziato a distribuire le nuove carte dell'assegno di inclusione e allora cosa è successo è successo che molte persone diciamo così metà metà delle persone che mi hanno scritto hanno ricevuto l'importo correttamente quello giusto che si aspettavano non ci sono stati diciamo non ci sono stati problemi un'altra metà io non mi aspettavo una roba del genere un'altra metà invece cosa ha avuto ha avuto dei problemi con il ritiro della carta più che il ritiro della carta con l'importo che è stato caricato all'interno della carta perché quest'altra metà di persone invece hanno ricevuto un importo molto più basso rispetto a quello che si aspettavano adesso vabbè non è per ripetere le solite cose 50 mila volte ecco però noi sappiamo che l'assegno di inclusione lo possono prendere tutti i nuclei familiari singolo o nuclei familiari il cui all'interno ci sono disabili persone con più di 60 anni d'età minori o in condizioni di svantaggio con un sè inferiore a 9.300 e rotti euro è un reddito familiare non superiore a 6.000 euro e diciamo questa è questa la base su questa base qua viene calcolato l'importo spettante esiste una piccolissima formula matematica semplice semplice che serve anche per calcolare l'importo spettante che data da una parte c'è appunto il reddito familiare dall'altra c'è l'importo massimo pagabile si moltiplica si divide e viene fuori l'importo adesso non c'è adesso non ce l'ho qui sotto mano però se volete me lo fate sapere qui sotto nei commenti e io piuttosto vi preparo un video uno short magari uno short o ne parlo in un altro video un po più lungo dove vi spiego come si fa il calcolo quindi se vi interessa scrivetemelo qui sotto ma attenzione non scrivetemi come solito mi interessa perché altrimenti io non riesco a capire che cosa vi interessa scrivete proprio mi interessa la formula per il calcolo dell'adi allora io in base a quello mi so mi so regolare ma torniamo al nostro discorso degli importi più bassi come mai queste persone hanno ricevuto questo importo basso ci sono state persone che mi hanno scritto che hanno ricevuto 70 euro addirittura persone mi hanno scritto che hanno ricevuto 40 euro e io subito ho detto ma 40 euro ma perché che cavolo di importo e 40 euro e 40 euro sapete che cos'è 40 euro sono i quadri 4 ce l'ho qua davanti alla calcolatrice sono i 480 euro annui minimi pagati per l'assegno di inclusione perché se voi fate 480 euro diviso 12 mesi viene fuori guarda un po proprio 40 euro ovviamente non vi dico le polemiche che sono saltate fuori non ve le sto manco a raccontare perché le ho visti io i commenti sotto i video quindi c'è stato una specie di delirio generale e allora la domanda che mi state facendo in questi giorni è questa qua perché allora l'inps ha pagato questa cifra così irrisoria a tutti quelli che avevano diritto di ricevere l'assegno di inclusione diciamo un po più alto ci sono due cose da considerare allora la prima la prima che era più semplice è che al momento anch'io sto raccogliendo tutte le varie informazioni per cercare di capire come mai come mai queste persone hanno ricevuto solo 40 euro e non l'importo specifico quindi dovete darmi un attimino di tempo per capire come mai l'inps si è mossa diciamo pagando solo quella cifra lì l'altra l'altra questione l'altra ipotesi non solo la seconda opzione ecco chiamiamola così e che dicono dicono voci di corridoio anche perché molti di voi me l'avete scritto nei commenti quindi insomma sono cose che mi state riportando voi ecco molte persone cosa hanno fatto anche amato il centralino telefonico dell'inps per chiedere informazione per capire come mai c'erano questi importi bassi e pare che gli operatori al centralino hanno risposto che l'inps cioè l'inps come istituto di previdenza sta cercando in questi giorni di mettersi in regola con diciamo i pagamenti e quindi vogliono pensano che appunto loro mettendosi in regola pagheranno poi le differenze quindi è facile e facile che in questi giorni se così è veramente che arriveranno poi le differenze dell'importo spettante è facile che in questi giorni poi arriveranno degli ulteriori pagamenti adesso io lo so che perché funziona cioè sono cinque anni che siamo qua su youtube quindi lo so benissimo come funziona io so già che quando arriveranno le differenze nessuno mi informerà di niente no perché io già so come si muove l'andasso qui quando ci sono questioni che non si riescono a risolvere mi vengono tutti a chiedere ma quando poi la questione è risolta nessuno mi dice più niente quindi io poi alla fine dopo navigo un po nel buio quindi facciamo una bella cosa se è vero se è vero che stanno arrivando i pagamenti del conguaglio ecco chiamiamolo così se è vero che stanno arrivando i pagamenti del conguaglio voi fate una bella roba scrivetelo qui sotto nei commenti e ditemi proprio ovviamente a chi riguarda questa cosa è non è che riguarderà tutti però chi ha ricevuto l'importo minimo e si aspettava un'altra cifra per favore scrivete qui sotto nei commenti e fatemi sapere se effettivamente l'imps in questi giorni ha pagato queste queste differenze questi conguagli se vi è arrivato qualcosa sulla carta insomma tenetemi aggiornato anche a me così riesco a capire anch'io cosa sta succedendo poi un'altra cosa che volevo dirvi è che il giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale di youtube ci sono le nuove dirette live da adesso fino alla prossima estate ci vediamo il giovedì sera 21 e 30 sul mio canale di youtube diciamo che un un'oretta tre quarti d'ora un'oretta per da passare tutto insieme ci vediamo faccia a faccia cerchiamo di rispondere alle domande per quello che è possibile in questo momento oppure semplicemente ci possiamo tenere compagnia un tre quarti d'ora un'oretta così se non avete voglia di andare a guardare un qualcos'altro venite a guardare la mia diretta live quindi vi aspetto il giovedì sera mi stavo dimenticando non so se ve l'ho già detto da adesso fino alla prossima estate sapete che poi durante il periodo estivo andiamo tutti in vacanza diretta live non ci sono più quindi per tutto il periodo invernale ok durante il periodo estivo no diciamo che con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao